Start, 2, 1, Inizio e Liftoff! E' un'espansione che si chiama Land of the Morning Light, è un'espansione gratuita quindi se possedete già il gioco potete già accedervi, se non lo possedete calcolate che lo potete prendere con 7 giorni di trial dal sito ufficiale con la relativa launcher piuttosto che da Steam e dovrebbe costare sui 10 euro o una cosa del genere. Allora, questa espansione aggiunge una nuova regione, una regione ampiamente ispirata alla Corea Medievale. Ora, il gioco è coreano, si presta ovviamente a tanti bei personaggi definiti anche waifu, insomma, in orientale, quindi su questo può piacere o può non piacere. Ma ho deciso di fare il video perché so che alcuni miei amici su Steam lo giocano costantemente, quindi lo proviamo. Possiamo scegliere tra tantissime classi che sono basate sul genere, se è uomo o donna, alcune classi sono solo per uomini, alcune solo per donne. Ci sono veramente tante, hanno una meccanica action a differenza di tanti altri MMORPG che sono target based. Mi ispirava, vedete quelli sti qui in giallo, sono quelli che ho già, le fate tutte donne ovviamente voi. Quindi, questo è Sage, questa è una delle ultime classi credo aggiunte, ma mi piace la Ranger, quindi la Ranger. Io non sto qui neanche a creare, a modificare i tratti perché voglio farvi vedere, anzi facciamo il Berserker va, che è meglio. Creiamo un nuovo personaggio e con la creazione del personaggio possiamo andare a scegliere la zona da cui iniziare. Quindi praticamente noi entrando, avremo l'introduzione nel gioco, vedete che c'è l'end of the morning light, vengono aggiunte tante nuove zone, tante nuove cose da fare e adesso vedremo l'inizio. Vedete che c'è una intro e che praticamente ci consentirà, adesso io posso saltarla, perché non vi spoilerò, l'ho già giochicchiata perché ho fatto un altro account prima, avevo un altro account perché ne ho due. E questo è uno di quei giochi che io al momento insieme a Eve Online non posso giocare, perché? Perché questa, vabbè, la prima volta ve la dovete giocare interamente, non la potete saltare perché è importante. Allora, quello che, vedete, abbiamo questa che è una zona avanzata e questa invece è l'end of the morning light, quindi la possiamo iniziare e andiamo. E iniziamo già da lì, si può iniziare dal livello 1, quindi incentiva anche ai giocatori di tornare. Dicevo, non lo posso giocare insieme a Eve Online perché sono dei giochi, questo è il più completo, il più ricco di cose per quanto riguarda gli MMORPG di tipo Mediore Vali Fantasy. E non amo molto il discorso dei giochi orientali, però il gioco non mi dispiace, mentre Eve Online è il migliore a livello di libertà per quanto riguarda lo spazio. Non li gioco perché dovrei fare solo quello, cioè se siete dei giocatori che cercano un MMO in cui immergersi e dedicarci e che il gioco chiede proprio una dedizione per poter fare cose più avanzate, il gioco fa per loro. Assolutamente, perché è un bel gioco profondo, è basato anche sulle microtransazioni e gli acquisti. Su questo però voglio rassicurare che ogni oggetto, come io ho già spiegato nelle live, quindi se volete andate a vedere i video che ho fatto, le live che ho fatto, ogni oggetto è acquistabile anche con i soldi di gioco. I soldi di gioco vengono regalati ad ogni giorno che passa dalla vostra creazione del personaggio. Io infatti non lo gavo da mesi e mesi, ho prelevato un miliardo di monete e calcolate che un pezzo di equipaggiamento di quelli venduti con le perle, quindi a pagamento con soldi reali, costa tra i 50 e i 100 milioni. Quindi calcolate anche quello che potete fare. Questa è una zona iniziale, non ho accesso alla mappa perché dobbiamo fare la zona iniziale. New quest. Vedete che abbiamo un po' di cose da fare qui che non so cosa devo premere. ovviamente in inglese, quindi non si può saltare nulla qua all'inizio, ci sta spiegando un pochino la storia di gioco, sono i pezzi di memoria questi a quanto pare, bookseller. Ed è uno di quei giochi che vi permette addirittura di traprendere delle amicizie con le persone, gli PNG. Avete lo spiritello che potete evocare, con cui potete poi parlare, prendere questa e così via. Ci sono gli eventi. Follow the Spiriting Station. Vediamo un attimo se mi dà le istruzioni. Devo parlargli. Add him. Ok. Quest. Potete accettare le varie quest che lui stesso vi dà. E poi si andrà ad esplorare il mondo, ovviamente. Io adesso posso... Sì, 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 sì. Ok. Si comincia, si comincia. La grafica è molto scalabile e non ho mai trovato, diciamo, una configurazione bella da mettere, perché a volte è troppo luminosa, a volte è troppo opaca. Insomma, bisogna smanitarci un pochino. Questa parte della storia non può essere saltata, quindi mi sa che ce la dobbiamo guardare. Questa è la... Vabbè, ce la guardiamo. È l'ambientazione stile coreano. Medio-vale. Di questa nuova espansione. Ripeto, se non avete il tempo, non volete dedicarvi a un bel gioco online, dove si farma tanto, si fanno quest, dove tutto in inglese, comprensibile dal mio punto di vista, dove ci sono tante features, dal crafting, la possibilità di comprare le case, di utilizzare le case per produrre oggetti, di mettere insieme una sorta di industria o catena di produzione per vendere, coltivare, fare tante cose, fare anche, come va tanto nei giochi coreani, di trasportare le merci a proprio rischio e pericolo, questo potrebbe fare assolutamente per voi. Vi troverete di fronte a una miriade di oggetti che potete prendere ogni volta, di giorno in giorno. E quindi, insomma, questa è la mappa di gioco. Questa è la zona. Onestamente, io credo, sia... Infatti, la zona è qua in alto e voi potete, per dire con... Vabbè, iniziate normalmente e partite da questo continente qui. Potete comprarvi la nave e andare e navigare di là. Perché vi dico che chiede tempo? Perché calcolate che voi potete, che so, prendervi la nave, andare laggiù e pescare. È un gioco che supporta anche la FK. C'è una modalità in cui il vostro personaggio del gioco sta aperto in barra di Windows sotto. Non consuma molte risorse, ma sta connesso. Di contro, se voi volete fare delle cose, volete mettere dei commerci, sappiate che di fronte avrete gente che lascia il PC acceso giorno e notte per mesi per fermare la roba. Quindi, se volete essere i migliori del gioco, ci dovete giocare giorno e notte. Se volete essere normali, insomma, come tutti gli altri, e divertirvi, può fare sicuramente al caso vostro. Il gioco ha un sacco di cose. Dalla possibilità di allevare i cavalli, riprodurre i cavalli, venderli. Quindi potete allevarli, potete crescerli, potete prendere i cavalli più talentuosi e venderli all'asta. Potete vendere qualsiasi cosa all'asta. Potete commerciare, potete fare. Veramente ci sono un sacco di oggetti, tantissimi vi vengono dati ogni giorno, gli oggetti acquistati dal Perl Shop e, ad esempio, vi faccio vedere come ultima cosa, se noi andiamo al Perl Shop, che è tutto quello che viene venduto a mano, a mano, scusate, a soldi veri, voi potete andare, ad esempio, su ogni cosa. Prendiamo questo set di armature. Io scrivo Kerasaur sul mio, questo, che è l'asta. Kerasaur. Faccio invio. Ho scritto sbagliato, però il niente. Non tutti sono acquistabili, da quello che ho letto. Però, vediamo se lo trovo. Magari è una cosa nuova. Però, no, se no facciamo un nome più facile, tipo, Crown Eagle, questo, esempio. Vediamo, vediamo se Crown Eagle, vediamo se me lo trova. Tenete conto che io ho fatto degli interi set comprando gli soldi veri. Crown Eagle, ok, vedete, questo è l'intero set. Questo è l'armatura, la spada, tutto. Potete andare ad acquistare. Potete acquistare un oggetto alla volta. Ovviamente vedete che nessuno lo vende, però se cliccate potete fare, impostare un prezzo deciso dal mercato, quindi dal più costoso al meno costoso, e se qualcuno mai lo venderà, lo venderà a voi. E quindi ottenete quelle stesse cose che trovate in vendita al Perl Shop con soldi veri. Poi, ho fatto già altri video, insomma, quindi anche qui avrete una sorta di nodi dove potete andare, spendere i vostri punti, possedere i nodi, e i nodi poi darli a dei lavoratori per coltivare terra, per produrre e estrare i materiali presenti in quella zona. Vedete qua, sta trasportando qualche merce, qualcuno a FK, quindi potete spedire le vostre merci da una città all'altra con lo rischio che venga assaltata dai banditi. Insomma, il gioco è vivo già da diversi anni, è uno dei più giocati, penso, su Steam. È uno dei più promettenti, ma vi metto in guardia che è anche uno dei più incasinati. Io sono tornato dopo mesi e non trovavo come cercare un NPC sulla mappa. Cioè, dovete veramente tantissime cose, voi trovate nell'NPC, ci potete parlare. Arrivate qui, dovete sapere chi fa cosa, il villager, anche questo. Poi ci sono gli NPC, ad esempio questo, Big Ronti, questa vi potrebbe dare questa. Potete parlarci, potete... E su alcune c'è l'amity, che sarebbe l'amicizia. Quindi quando voi vi farmate la sua amicizia, la sua amicizia sale a un tot, lui può vendervi delle cose. Quindi da lì si nascondono un sacco di cose possibili, tipo il Luxury Vendor. Lui vende roba, ma in alcuni casi ve la vende solo se siete amici. In questo caso non c'è l'amity, il minigioco. E il minigioco dell'amity, ad esempio, ma è una delle mille cose che potete fare, consiste nel andare in ogni città, conoscere il più gente possibile, in modo da poter parlare con questo tizio delle varie persone, parlando, facendo questo minigioco di carte con le persone che conoscete, quindi più ne conoscete più avete carte da usare. In quella città, quindi solo in quel territorio, non vale negli altri, che dovete fare la stessa cosa, conoscere tutta la gente, potete guadagnare i punti o perderne. e guadagnandone potete andare appunto a avere dei vantaggi. E ovviamente tante volte ottenere dei vantaggi li dovete conoscere o conoscete il gioco, o vi informate online, o ve lo consigliano degli utenti nei forum, o sui video su YouTube, perché tante volte prendere un oggetto che magari prendete da quella persona che vi consente in quel giorno di ottenere quella determinata cosa, lo sapete se conoscete il gioco, se avete spolpato tutto, o se qualcuno ve l'ha detto. Insomma, è la maggior parte se qualcuno ve l'ha detto. L'ambiente è molto bello, la grafica è molto scalabile, non mi piace perché non è nella modalità remaster, insomma si può aumentare ulteriormente. Il sistema di combattimento è molto interessante perché è fatto completamente di combo. Quindi adesso il gioco non me lo spiega, però ce ne sono un'infinità che poi andrete ad apprendere e quindi è tutto completamente action, quindi combatterete da soli. Io penso che la maggior parte di voi che vedrà questo video, il gioco lo conosce già, ma chi non lo conosce mi faccia sapere, mi dica che cosa ne pensa e se gli va vado a vedere i video che ho fatto, le live, scrivendo su Indie Game Play It a Black Desert. Volevo solo informarvi dell'uscita di questa espansione completamente gratuita, con un nuovo territorio. Quindi, ovviamente, tanti pensano che i giochi coreani siano il male, ovvio, devono campare anche loro, puntano a fare soldi, ma onestamente non ho mai speso un soldo. Ho comprato tutto quello che vedevo sul Pearl Shop che mi piaceva a soldi di gioco. Tanto ne ho accumulati tanti e calcolate che io ci ho giocato ore, ma senza fare granché, non sono mai arrivato neanche al cap, ma di quasi due miliardi, che non sono tanti sui grandi commerci, vendono anche dei cavalli a miliardi, però bene o male dei soldi li fate. Quindi, fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci sentiamo in un prossimo video game play. Alla prossima e ciao ciao!